Anche da San Vittorio adesso perché abbiamo fatto due rapine. C'è il posto per te, apre una busta? Sì, apre. Guarda, è Mazzone che dice licenziato, licenziato. Dieci anni che dice sempre una parola. Sempre una cosa. Dico, ma sono campi. Perché lui mi dice, Leone, cosa devo fare? Lui, quelle parole, quelle parole, quelle parole. Il tuo numero sta a tutti i tagli. Tutti i tagli. Io ce ne ho quattro, ti do il primo, 335, 71, 16, 490. Questa la sera ovviamente è l'opo grill. Allora, 3, 0, 3, 0, amici attenzione, questa è la fabbola di Leone di Lernia. Allora, 3, 9, 3, 0, 80, 31, 0, 4. Aspetta, aspetta, queste ci giochiamo dove? Sono la vota di Bari? No, sul book del cuore. No, dai! Licenziato.